Buongiorno, sono Rita Gamberini, Università di Modena e Reggio Emilia, centro Enetec. In questa sede ho presentato il progetto Lume Planner che coordino insieme a Marco Mamei dello stesso centro. In particolare il progetto si occupa di sviluppare una piattaforma per la progettazione e l'implementazione di turismo sostenibile nell'ambito della regione Emilia-Romagna. Il concetto di sostenibilità nel progetto è visto dal punto di vista dello sviluppo del patrimonio culturale e della sua conoscenza, sia per quanto concerne strutture note al grande pubblico, sia quelle che possono invece essere delle strutture e degli eventi meno noti. Sostenibilità è anche in termini di sviluppo delle attività commerciali e turistiche che gravitano sul territorio. Sostenibilità è vista nell'ambito della promozione di percorsi fruibili ad esempio da persone a ridotta capacità motoria. Sostenibilità anche nell'ambito ad esempio di conoscere quelle che possono essere forme di percorsi traffici che non siano legati al solo uso dell'auto, ma anche ad esempio della bicicletta piuttosto che del treno e dell'autobus. Il tutto con strumenti Citi innovativi che Marco adesso ci racconta. Sì, io appunto mi occupo degli aspetti informatici del progetto. Stiamo sviluppando un'applicazione che andrà su cellulari ma anche computer normali, diciamo, che si occupa diciamo di, noi puntiamo molto a due aspetti in questa applicazione, personalizzazione e proattività. Cioè vogliamo che questa applicazione possa fornire in modo proattivo, in modo autonomo, suggerimenti agli utenti e che questi suggerimenti siano personalizzati sul profilo dell'utente, su quello a cui l'utente potrebbe essere interessato. Quindi l'applicazione dovrebbe in modo automatico inferire che una determinata persona è interessata ai musei e in quel caso raccomandare, sulla base ad esempio della posizione dell'utente e del tragitto che l'utente sta per compiere, che c'è un museo con fatalità interessante a pochi metri di distanza. E quindi raccomandare appunto la visita all'utente nell'ottica appunto di suggerire non solo quelle attrazioni super famose, come possono essere la piazza principale della città o quant'altro, ma anche per le nascoste del nostro territorio. Il nome del progetto è LUME, che è acronimo di luoghi storici, musei, eventi artistici e culturali, ma allo stesso tempo è tipico dell'approccio che vogliamo avere, un approccio discreto, quello di una candelina che accende tanti luoghi e tanti punti della nostra regione non perfettamente conosciuti.